Andrea Sottil sarà il nuovo allenatore del Pescara. Il tecnico originario di Venaria Reale, alle porte di Torino, si è liberato dal contratto che lo legava al Catania ed è pronto a sostituire Nicolai Grottaglie, esonerato questa mattina. A Sottil il presidente Daniele Sebastiani e i direttori Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti chiedono di conquistare quei 6-7 punti che separano il Pescara dalla salvezza e chiudere la stagione senza brutte sorprese. Nonostante siano circolati i nomi di Zeman ieri mattina e Zauri ieri sera, due potenziali ritorni, Andrea Sottil è stata la prima scelta del Pescara. Legato al Catania da un contratto triennale firmato nel 2018 con scadenza 2021, c'era da risolvere proprio questo nodo con il club Etneo, ammesso un mese fa a concordato preventivo e con un passaggio di proprietà che si potrebbe concretizzare in questo mese. Ora che c'è il via libera Sottil pronto a debuttare in Serie B, lui che è finora allenato solo in Serie C a Siracusa, Gubbio, Cuneo, Pagani e Livorno dove ha vinto un campionato per poi lasciare il sodalizio labronico e sposare il progetto triennale del Catania. Ha anche allenato e vinto un campionato di Serie D sempre con il Siracusa. Da giocatore è stato arcinio difensore da circa 250 presenze in Serie A con Torino, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Regina e Catania. Il figlio Riccardo ha giocato a Pescara da gennaio a giugno 2019 e sovente Andrea Sottil è stato al poggio a vedere gli allenamenti dei Biancazzurri prima di tornare sulla panchina del Catania che lo aveva esonerato a febbraio per poi richiamarlo a maggio. A luglio nuove sonero con la panchina affidata al pescarese Andrea Camplone. Si chiude invece l'esperienza di Nicola Legrottaglie, subentrato a Zauri lo scorso 20 gennaio il tecnico pugliese paga tra le altre cose un ruolino da quattro vittorie, un pareggio e ben sette sconfitte, 13 punti in 12 partite. Mi dispiace perché quando si prende una decisione di questo tipo è sempre una sconfitta e quindi dispiace, però era necessario perché dobbiamo avere delle certezze e quelle certezze ci devono far andare in campo con la consapevolezza che i giocatori devono avere per cercare di portare a casa i punti necessari per la salvezza. La sconfitta di Cremona possiamo dire che è stata Presidente la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso? Ma no, no, no perché era un pensiero che già avevo ed era un pensiero che avevo maturato insieme ai collaboratori a Bocchetti e a Repetto perché vedevamo che qualcosa non andava, non andava e quindi non è un risultato che ti fa cambiare, ti fa cambiare un insieme di cose e quindi abbiamo deciso di interrompere il rapporto.